Minaudo, il podista portafortuna venuto da lontano, prende per una volta il posto dei celebrati campioni con Villa e fuori serie all'uscio. Altobelli cerca in acrobazia il gol della sicurezza, ma la sua posizione è instabile e se ne accorgerà. I morsi della disperazione costringono Gazzaneo alla prodezza ed è un bel gol il suo. La gente contesta, l'allenatore medita, Pellegrini se ne va. Se Bertoni invece di cogliere la traversa nel finale avesse segnato, chissà cosa sarebbe successo.